Tunnel di Avellino verso l'apertura. Dopo 15 anni di lavori, stop and go, innumerevoli problemi e polemiche, il sottopasso di Piazza Libertà è di fatto pronto, tanto che il taglio del nastro ci potrebbe essere a breve. La data che trapela è quella del 26 luglio. All'appello, come noto, mancava solo la centralina dell'Enel che è stata installata all'interno dei locali del mercatone. Ieri sono state rimosse le transenne a Via Luigi Amabile e Via San Pompilio-Pirrotti, rispettivamente ingresso ed uscita del tunnel. Operai e tecnici hanno effettuato una prova generale illuminando l'interno del sottopasso, lungo tutto il tratto e la segnaletica informativa. In materia di mobilità ci sono notizie anche su un altro fronte, quello della metropolitana leggera. Nelle ultime ore il dottor Lucio Paderi, il referente della Comunità Europea, l'AIR, l'ANM e l'autorità di gestione della regione Campania, insieme con il sindaco Festa, hanno effettuato la verifica decisiva. Tutto ok, annuncia il primo cittadino, finanziamento salvato e da breve partiranno anche a regime le corse. Sono molto soddisfatto, questa è una notizia di fondamentale importanza per la nostra città, merito dell'impegno e del lavoro di tutta l'amministrazione. Sulla stessa linea, Geppino Giacobbe, assessore della giunta Festa. A giorni dovremmo aprire il tunnel. Per forza di cose il primo di agosto deve essere messa in funzione la metropolitana leggera. E voi vedete che stanno facendo le prove, tra l'altro ieri sono state superate le prove da parte della Commissione Europea. Quindi sicuramente e certamente ci sarà una svolta nella mobilità urbana.